Peraltro ringrazio perché si è fatta promotrice di questa importantissima mozione, una mozione che ha un alto valore politico e che ribadisce un concetto basilare, e cioè che l'istruzione, oltre naturalmente alla salute, è il diritto o dovrebbe essere il diritto fondamentale di ogni essere umano, perché è la base per l'emancipazione e lo sviluppo dell'individuo. Ecco, questa mozione parte proprio da questo concetto e la sviluppa nella direzione di chi ancora non ha avuto la possibilità e la capacità di poter esercitare questo fondamentale diritto che da noi ormai è scontato, ma che purtroppo in gran parte del mondo ancora è un sogno, un sogno soprattutto per le ragazze, per le donne, e noi vogliamo proprio promuovere e renderci promotori e promotrici di questa convinzione. Quindi ringrazio ancora la consigliera e ovviamente scontatamente appoggio la nostra mozione. Grazie. Grazie consigliera.